Conferenza stampa in Sala Rosa da parte del gruppo consigliare del Partito Democratico, ci sono critiche ben specifiche per quello che riguarda il PNRR. Voi avete presentato dei progetti, a quanto pare la Giunta Ghinelli su questo è abbastanza deficitaria. Allora, il PNRR esiste, esiste, ci sono già dei bandi aperti che scadranno nel mese di febbraio per l'edificazione di nuove scuole e l'edificazione di nuove palestre. Oggi abbiamo proposto tre progetti di nuova edificazione su scuole innovative, perché questo è il motivo per il quale il Paese mette dei soldi per rinnovare il patrimonio edilizio pubblico e costruire e dare nuovi servizi. Allora, tre proposte. Uno è legato alla riqualificazione dell'area della manutenzione a Saione, per evitare una speculazione e noi vorremmo che lì ci vengono fatte scuole e la prossima settimana faremo altre proposte per quella zona. Due, la, come dire, messa a nuovo, la ricostruzione, ritiriamo su la scuola Cesalpino, perché gli ultimi progetti proposti dall'amministrazione sono andati tutti a vuoto, perché non rispondono alle esigenze dei bandi di innovazione. Noi abbiamo fatto una proposta stamattina di, diciamo così, non solo riqualificazione, ma una nuova scuola nel Cesalpino, la nuova Cesalpino. La terza proposta è quella sulla zona tortaia. Anche qui la nuova scuola significa dare un servizio a una periferia urbana, che è una delle più importanti della città, e quindi tre nuove scuole per la città, e una città che non vede nuove scuole da ormai troppi anni. C'è un termine ultimo, che è il 28 febbraio. Ad oggi la giunta a Chinelli, quanti progetti ha presentato? Ad oggi l'unica notizia che abbiamo sul PNRR del Comune di Arezzo sono le dichiarazioni di Chinelli, che diceva che PNRR è come Sarchiapone, e dall'altra parte un comitato di tecnici e saggi per l'utilizzo dei fondi PNRR. Ecco, mentre si ritrovano, però ricordiamogli che ci sono delle scadenze, quindi a metà 8 febbraio, 28 febbraio sono le scadenze dei bandi, il PD ha deciso di non fare critica dopo che i bandi sono chiusi, ma provare a fare dei progetti per stimolare l'amministrazione a provare a sfruttare delle opportunità importanti.